Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi andiamo a seguire la seconda giornata di questi mondiali. Ovviamente dell'Argentina abbiamo scelto la squadra che ha fatto registrare il primo più clamoroso risultato della prima giornata. In vantaggio con Messi è poi riuscita a perdere, non si sa bene come, 2-1 con l'Arabia Saudita. Nel primo tempo sono stati annullati 3 gol per fuorigioco, gol veramente di mezzo centimetro all'Argentina. Poi è successo il patatrack, è successo quello che è successo. È stato divertente assistere a determinate reazioni degli scommettitori. Soprattutto dopo che poi anche la Germania ha fatto registrare questa clamorosa sconfitta con il Giappone. In realtà per quanto sono andate tutte e due in vantaggio nel primo tempo, tutte e due con gol annullati nel primo tempo perché la Germania anche aveva fatto il 2-0, tutte e due vengono ribaltate 1-2. In realtà sono due partite piuttosto diverse se andiamo a vedere i dati della singola partita perché l'Argentina ha effettivamente subito nel secondo tempo l'Arabia Saudita. Cioè io l'ho anche vista la partita, l'Arabia Saudita ha veramente tirato fuori delle risorse inimmaginabili. Il gol del 2-1 è veramente un gol da campionato importante, da Premier, Serie A, Bundesliga, eccetera. È stato veramente una sorpresa. Il Giappone no, il Giappone onestamente no perché fino al settantesimo è stato preso a pallonate. Le statistiche sono molto simili, non del tutto uguali, ma molto simili a quelle della Spagna contro il Costa Rica, a Spagna che ha vinto 7-0, per capirci. Quindi sono due squadre e due partite molto diverse tra loro. Quello che si è verificato che è stato particolare come cosa è stato vedere come sono uscite fuori delle teorie che sinceramente io ritengo complottistiche. Cioè pensare che i bookmaker abbiano influenzato volutamente quelle partite, ma pensare soprattutto che giocatori di Argentina e Germania che se andiamo a vedere giocano tutti in top club europei, quindi che prendono tutti una valanga di soldi, possano vendere la propria credibilità al bookmaker o al Qatar, cioè che perdono apposta. Questa è una concezione onestamente un po' complottista e difficile da credere. Che le partite possano essere vendute è vero. Abbiamo anche detto che il Qatar potesse offrire dei soldi a giocatori magari dell'Equador che sicuramente non guadagnano quanto guadagna Messi di Maria. Cioè andatevi a vedere la rosa dell'Argentina e ditemi se è una rosa che può essere comprata per far falsare una partita. Quello ci potevo anche stare mentalmente, dico sì ok può anche succedere, ma non sull'Argentina, Germania, Brasile, Portogallo, non su squadre top. Io questo delle scommesse comprate, l'ho sempre detto, può succedere nei campionati minori dove le squadre che scendono in campo o i giocatori che scendono in campo guadagnano molto meno. Quello può essere un elemento corruttibile, ma non può essere corruttibile. Non dico Messi che è il giocatore che guadagna il più in assoluto al mondo, ma un Di Maria, cioè un semplice Di Maria, un semplice Di Bala, un semplice Neuer, un semplice, non so, Ignori della Germania, non so neanche come si scrive, beh, non possono essere quelli i giocatori che vengono corrotti, semplicemente perché guadagnano talmente tanti soldi che non si vanno a vendere una partita durante il mondiale, cioè che ti vendi un amichevole, che ti vendi una partita di campionato, ma durante il mondiale non ci credo, cioè proprio logicamente non ci credo. Quindi sono semplicemente squadre con giocatori che arrivano, secondo me, spremuti dalla stagione, perché comunque hanno cominciato la stagione sapendo che c'era il mondiale, hanno dovuto giocare partite compattate prima del mondiale, sanno che dopo il mondiale ci resta il campionato, cioè secondo me è quella stanchezza fisica mentale che può portare a paesi come l'Arabia Saudita, il Giappone, che hanno meno pressione, i giocatori hanno meno pressione sul, diciamo, nel resto dell'arco dell'anno e quindi può portare a questi imprevisti. Ma se andiamo a vedere le favorite, tolte queste due, hanno vinte tutte, il Brasile ha dominato, la Spagna ha dominato, l'Inghilterra ha dominato, cioè non possiamo pensare, ragionare in questo modo, secondo me. Anche perché se ci fosse il reale sentore che le partite vengono comprate e vengono vendute, allora io non scommetterei, cioè non andrei a mettere dei soldi dove so già che è falsato. Riprova ne è il fatto che ho detto 100 milioni di volte che non gioco il campionato colombiano perché il campionato colombiano più facilmente viene magari indirizzato e quindi allora lì non ci metto dei soldi, ma non sui mondiali. Scusatemi se mi sono preso un po' di tempo per fare questa premessa, però ne ho lette veramente di tutti i colori e secondo me andava chiarita come cosa. Oggi abbiamo l'inizio della seconda giornata con queste partite, ma a noi in realtà ci interessa l'Argentina perché abbiamo deciso all'unanimità quasi dei voti di seguire l'Argentina. L'Argentina domani affronta il Messico con una quota veramente interessante, a 1,57, probabilmente derivante anche dall'improvvisa sconfitta. Il Messico in questo momento ha un punto in più dell'Argentina perché ha pareggiato 0-0 con la Polonia con rigore sbagliato di Lewandowski. C'è tanto da poter dire a livello mentale di questa partita. Se andiamo a vedere le proposte che ci vengono fatte a 1,57 è praticamente identica la quota che ci verrebbe a noi, quota coppe al librata di quello che si verifica quando ci sono queste aperture questa attuale, la variazione finora è minima solo sulla X con i rispettivi rialzi, riabbassi interni con un allibramento viola, eccetera, eccetera tutto quello che fanno le comparazioni affini sulle coppe, diciamo in questo caso sulla coppa del mondo. Se uno non si ricorda esattamente come funziona clicca sopra comparazioni affini e ti porta nell'articolo che lo spiega nel dettaglio Il 63% delle partite che avevano avuto questa configurazione finora sono finite 1 perché, ripeto, sulle coppe le comparazioni affini lavorano solo sullo storico di quello che è stato quindi 63% di esito 1 36,6% di esito X2 possiamo arrotondare facendo 63,37 l'Argentina cioè, le cose sono due o esce dal mondiale non vince e già va fuori o rischia di andare fuori dal mondiale oppure, secondo me questa la vince come avrebbe dovuto vincere la prima ci sarà sicuramente un attimo uno scossone da riprendersi e per me l'Argentina vince io non riesco ad andare ho letto mi è stato detto di qualcuno che aveva scommesso sulla rabbia perché ci aveva quota sull'1 a 0 e l'Argentina era finita a quota 100 quindi ha scommesso sulla rabbia sulla rabbia saudita non la rabbia intesa come incazzatura io non gioco così ragazzi cioè, non vado a cercare la quota 100 o in questo caso non vado a cercare la quota 6 o non vado a cercare la X2 il betting si basa sulle statistiche e sull'esito più probabile che si verifichi poi che non si verifica perché quel giocatore la rabbia saudita fa il gol del Piero della sua vita è giusto che succede perché nello sport succede però non è pronosticabile secondo me questa la vince l'Argentina e ricomincerà il proprio campionato anzi comincerà il proprio campionato visto che finora di fatto non ha non ha giocato l'Argentina la ritroviamo poi il 30 il 30 che sarebbe esattamente mercoledì quindi ci vedremo con un nuovo video martedì 29 per vedere se l'Argentina perché secondo me questo è il match piuttosto Polonia Argentina era il match più difficile dove dovevi arrivare già qualificato quindi sarà interessante vedere a che punto ci arriva sarà interessante vedere se l'Arabia si ripropone nello stesso modo con la Polonia in questo momento ha una grande opportunità di superare il turno sarà interessante vederlo però per me Argentina Messico è solo ed esclusivamente da esito uno ovviamente mi prendo il rischio del mio pronostico non consiglio a nessuno di fare quello che faccio io cioè di seguire l'indicazione che do io ognuno si studia la sua perché poi se uno ho letto su questa Argentina veramente delle cose assurde per esempio io avevo giocato il gol nel primo tempo perché non avevo giocato l'1 e l'Argentina perché l'1 e l'Argentina era pagato 1,17 un esito 1 pagato 1,17 non si gioca semplicemente quindi avevo cercato un esito più facile mi pare che era pagato 1,20 1,25 e ho messo il gol del primo tempo perché a 1,25 ci può stare come quota da utilizzare non in singola ovviamente ma da utilizzare in una schedina ci metti l'esito a 1,25 a 1,17 sulla difficoltà della 1x2 non difficoltà del match proprio sul fatto che comunque devi battere una squadra a 1,17 secondo me non va utilizzato e non va giocato per questo video direi che è tutto ci vediamo nel prossimo video che è tutto